La terramanità per i terramani è cosa sacra. Il senso di appartenenza ad un luogo e a delle tradizioni, se è possibile, è stato anche rafforzato dall'emergenza coronavirus. Un'emergenza che però ci ha tolto per quest'anno una parte della terramanità che ha sconfinato nel mondo circa 50 anni fa. Ci manca e anche molto la Coppa Interamnia, che in questi giorni colorava la città, una città solidale, internazionale e accogliente. Amata, criticata, tollerata, acclamata la Coppa non si era mai fermata in 47 anni. Una manifestazione caparbia, testona e capace di superare difficoltà che per molti sarebbero state insormontabili come problemi economici e logistici. Al Covid non ha potuto dire di no e per la prima volta nella sua storia non ha acceso i riflettori. La macchina organizzativa però non solo non si è fermata, ma sta lavorando all'edizione del prossimo anno che si svolgerà dal 13 al 19 luglio, ma soprattutto al cinquantennale che cadrà nel 2023. Un altro anno abbiamo già riprogrammato dal 13 al 19. Si sposta dunque? Si sposta perché questo è dovuto al fatto che noi ci siamo un po' abbinati ad un altro grande torneo che si fa in Svezia, che si conclude l'11 di luglio, per permettere a molte squadre che vengono da altri continenti di andare prima in Svezia e poi di venire a terra. È un anno un po' particolare, non era mai accaduto nel passato che la Coppa si dovesse fermare per un anno. È un'esperienza anche questa per noi, che però ci dà una grande carica per poterla riproporre in un modo più deciso, più forte, più incisivo. Devo dire che per riempire il vuoto del momento stiamo pensando al nostro futuro immediato e meno immediato. Se la situazione sanitaria migliorerà, ma siamo certi che migliorerà, la Coppa torna un altro anno. Sì, stiamo pensando al cinquantennale, ci dobbiamo arrivare nel migliore dei modi, in maniera graduale, anche perché quest'anno era previsto un decentramento nel territorio provinciale. Era volontà della provincia di Teramo, del BIM stesso, del comune di Teramo stesso, di riaprirci al territorio. Quindi saremmo tornati nei vari comuni, come facevamo nei tempi d'oro. E quest'anno sarebbero venute tante squadre da tante nazioni. Ma quasi tutte hanno detto di voler tornare, con un po' di rabbia dentro, di voler tornare già a prossimo anno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.